buongiorno ragazzi avete visto il mio gatto è tornato a casa ovviamente dirette mamma mia ma che fai entrare un gatto trovatello a casa allora mettete un mi piace iscrivetevi al mio canale e condividete allora questo gatto ho avuto la sfortuna di non sterilizzarlo per cui a sei mesi ha iniziato a uscire da casa e tornare a quasi otto anni e mezzo l'ho trovato più morto che vivo l'ho curato nella speranza che si potesse rianimare perché stava malissimo malissimo infatti per diversi anni ho dovuto curargli gli occhi che aveva una forte infiammazione col rischio di essere accecato aveva diverse problematiche all'intestino insomma cose varie col formacista lo abbiamo curato era un bellissimo gatto perché io ora lo chiamo un clochard lui va e viene perché non ho il cuore di cacciarlo fuori di casa perché è un po un beniamino però credetemi il gatto viene sterilizzato dove lui si poggia lavo spesso le coperte e uso un disinfettante ovviamente lui è in compagnia di altri due gatti che ho voluto sterilizzare nell'intermezzo di ermes dei due gatti che ho a casa mia e natalino aveva una gatta nera purtroppo lei anche non l'ho sterilizzata in tempo ha avuto due gravidanze tra cui la seconda durante il covid e aveva fatto nascere cinque micetti di cui poi ho regalato ovviamente questa gatta nera essendo tosta e selvaggia ho dovuta regalare una mia amica che se l'è portata in campagna tra l'altro poi se n'è andata via dalla campagna della mia amica per cui io ho avuto un grande dolore di perdita di questa gatta nera perché c'ero molto molto infezionata era in un motore qua davanti un furgoncino piccolissima l'ho presa è rimasta a casa che un anno e mezzo alle un anno e mezzo si circa ha avuto due gravidanze e poi alla fine ho dovuto darla perché a casa non ci voleva stare quindi mi dispiace perdere ermes lui va e viene e poi vi racconterò degli anni e annettodi perché è un gatto molto affezionato a noi una volta che tu curi un gatto che era più morto che vivo da cuccioletto poi a sei mesi se n'andata a molti figli perché è uno che insegue spesso legate nei momenti di calura dei gatti durante l'anno tra cui aveva messo incinta la prima volta la mia gatta nera e per cui che l'abbiamo da otto anni e mezzo che lo abbiamo sempre curato perderlo non ha senso quindi si lava spesso la coperta si passa il napi sanne mi si mette qualche vi si lucida il pello con mi sembra con l'aceto di mele con questo insomma va a casa ma non è che va in giro per la casa fare chissà cosa lui si riposa e poi ovviamente se ne va fuori e torna quanto gli fa piacere sa che via qualche giorno poi vi racconto questa netto do qualche anno fa aveva nevicato mi sembra fine dicembre e lui non tornava a casa immaginate il pensiero che lui stava fuori e dirma chissà cosa gli è successo eccetera io lo pensavo intensamente a dire mai al messo ma dove sei catapultato che ha nevicato e non ho notizie ragazzi ho fatto questo pensiero dopo qualche ora è tornato che c'erano i centimetri di neve a miagolare per salutarci ed è andato via una cosa incredibile veramente quindi gli animali quanto si crescono cioè non li puoi abbandonare guai abbandonare gli animali anche perché sono portatori di di cassino di pandemonio questo lo mettiamo in prima in primis però è sempre un animaletto e gli animali vanno curati perché sapete che nel c'è mio figlio che si soffre il naso che è sempre raffreddato sappiate che nella bibbia quando ci fu il diluvio dopo furono date le leggi a noè che bisogna avere cura degli animali guai a matra a maltrattarli ricordatevelo perché sia un effetto negativi con il dio universale e nell'universo se non amate gli animali non non cercate di averne uno perché non si abbandonano noi abbiamo lui fino che campa non ce lo godremo ovviamente ci sono i mezzi per poter disinfettare le cose dove lui si siede perché stamattina già ho spruzzato il napis hanno ogni tanto un po d'aceto di mele sul suo pello e tutto torna normale e da anni che a casa nostra non non c'è mai successo nulla mettete un mi piace iscrivetevi al mio canale a presto